Teramo Illuminata Festa per Natale richiama ogni giorno tanti nuovi visitatori. Da ammirare non c'è solo il Corso San Giorgio con i suoi led bianchi e le piccole oasi di giardini incantati, ma anche e soprattutto le piazze meno frequentate, come Piazza Sant'Agostino e Piazza Sant'Anna, veri angoli da riscoprire e rivivere. I tigli poi sono magici e proprio lì si tengono letture di favole per bambini. E poi la chicca dell'anno, testi luminosi di Agnese e maledette malelingue, le canzoni scelte dal repertorio di Ivan Graziani per le luminarie natalizie di Via Capuani, un addobbo dedicato al cantautore Teramano su scelta dell'amministrazione comunale e che forse resterà definitiva. All'accensione delle luminarie natalizie in Piazza Martiri, tra le casette di Babbo Natale, il sindaco Gianguido D'Alberto ha parlato di solidarietà e senso della comunità. Vicino a sé ha scelto di avere persone che vivono un disagio, come un rappresentante degli sfollati di collaterrato o la madre del giovane marocchino affogato quest'estate. Una città dunque che si illumina non solo di lampadine, ma anche di affetto e amore verso chi soffre. Grazie. 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 Grazie.